Caltanissetta è la quarta città d'Italia con il maggiore tasso di rischio di corruzione, un dato che emerge da un rapporto dell'autorità nazionale anticorruzione basato sugli indicatori che rilevano i livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e criminalità presenti su base provinciale. Sui tre gradini più alti di questo poco edificante podio ci sono tutte città del sud, con Enna al primo posto seguita da Crotone e Palermo. Le più virtuose sono invece Milano, Bologna e Modena. Gli indicatori possono essere considerati campanelli d'allarme, hanno spiegato i vertici ANAC. Non sono un giudizio né una condanna. La corruzione in Italia e nel mondo è sempre stata quantificata in base a percezioni soggettive, condizionate spesso dalla eco di inchieste giudiziarie o giornalistiche, più che su dati oggettivi.